Topi d'appartamento in azione nel centro storico di Caltanissetta, obiettivo dei ladri un appartamento in cui vivono alcuni giovani originari della Somalia, che sono stati derubati dei risparmi che custodivano in casa, per una cifra che oscilla tra i 5 e i 6 mila euro. Sono stati gli stessi inquilini dell'appartamento del centro a chiamare il 112, una volta rientrati a casa e resisi conto dell'amara sorpresa. Sul caso sta indagando la polizia, che ha eseguito i primi accertamenti per tentare di identificare l'autore o gli autori del furto.